Allora, questo evento nasce dal desiderio di far conoscere e sensibilizzare l'opinione pubblica e non solo agli addenti a lavori sull'attività che l'AIL, l'Associazione Italiana contro le leucemie, svolge nello specifico nella realtà di Chioggia. L'evento è stato organizzato e fortemente voluto dalla dottoressa Rosa Canistro, che è responsabile del servizio di ematologia. Da 2004 lavora come ematologa nell'ospedale civile di Chioggia, in un servizio che opera all'interno di una unità operativa di medicina nel Dipartimento di Area Medica, diretto dal dottor Boscolo Angelo Bariga. Allora, un ringraziamento speciale da parte della dottoressa Rosa Canistro, ma anche da parte di tutti noi, va a Cristina Bullo, che è la presidente locale dell'AIL, e a tutti i volontari che operano in questo comitato. I nomi delle stelle sono belli, si ne hanno per la vostra e due gemelli, chi mai potrebbe dirgli tutti in tira? Sono più di cento volte centomila, ma il fondo al cielo non so dove e come c'ha un migliaio di stelle senza nome. se con nessuno è cura, ma per ora la notte è meno oscura. chiedo scusa da favore a chi, se non mi piace la parola può evita, io sto dalla parte della città, che mi piace la parola può evitare, chiedo scusa da favore a chi, mi piace la parola può evitare, mi piace la parola può evitare, Non ti piace la parte della città, non ti piace il ballo, non ti piace il ballo, non ti piace il ballo. Che non scusa la favola antica, se non ti piace la mara famiglia, nascosta la parte della città, nel più nel canto non vende regata. La città, non ti piace la mara famiglia, per qualche Vai Noto appointments, non ti piace la mara famiglia, ра giami, Grazie per la visione 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 Grazie per la visione